Nonostante le nuove zone rosse la Sicilia sogna la zona bianca che potrebbe essere realtà da lunedì però per Friuli Venezia Giulia, Molise e Sardegna. Per loro cadranno tutte le restrizioni ad eccezione del distanziamento e dell'utilizzo della mascherina. Una prospettiva che potrebbe riguardarci ma non nel breve e soprattutto non nei prossimi sette giorni. Settimana dopo settimana le regioni diventeranno bianche. Si stima che già a metà giugno più della metà del paese sarà libero dalle limitazioni più stringenti e la Sicilia beh per passare in zona bianca bisogna avere indici da zona bianca e mantenerli per almeno tre settimane. Ecco perché Abruzzo, Liguria, Umbria e Veneto lo saranno dal 7 giugno e Lombardia, l'Emilia e Romagna, il Lazio, il Piemonte e la Puglia e la provincia di Trento lo saranno dal 14 di giugno. Il fatto è che attualmente la Sicilia non ha ancora dati da zona bianca ma un'incidenza comunque bassa con 53 casi ogni 100.000 abitanti e questo lascia ben sperare. Il freno a mano purtroppo lo tira il dato che al momento la Sicilia è l'unica regione dove ci sono zone rosse fino al 3 giugno per cui la tabella di marcia è chiara. Prima la bassa incidenza poi dati da zona bianca per almeno tre settimane e quindi la zona bianca definitiva. Stando così le cose sembra che se ne parlerà soltanto a fine giugno ma si sa qui le cose cambiano molto velocemente.